Ibra l'ha definita così nell'ultimo libro, partita ricca di adrenalina, una partita che tutti i giocatori, che tutti noi tifosi, che l'intera città sogna, aspetta tutto l'anno, una partita che vale molto più di tre punti, quest'anno vale probabilmente lo scudetto, secondo molti, ma vale qualcosa di più, vale per la storia, per la tradizione, per l'entusiasmo della piazza, per l'entusiasmo dei ragazzi. Partiamo con l'analisi della partita, grazie all'analisi del nostro collega Andrea Spoto, che ha analizzato la partita, che ci fornisce le probabili formazioni di questa sera, e poi aggiungiamo, andiamo ad approfondire cosa deve fare il nostro Milan per far male a quest'Inter. La partita è fondita al reparto d'attacco, ed è già stato allenato da Inzaghi alla Lazio, facendo molto bene. I nerazzurri stanno viaggiando fortissimo in campionato, hanno una media punti di 2,41 a partita, e non perdono dall'ottava giornata. 3-1 contro la Lazio il 16 ottobre 2021. Tenete conto, sono 16 partite che l'Inter è imbattuta. Inzaghi sta facendo un grande lavoro, la squadra gioca molto bene, prima in campionato, ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia e agli ottavi di finale di Champions League. Quest'ultimo traguardo non era stato raggiunto dai nerazzurri nelle scorse tre edizioni della competizione. L'Inter ha giocato quattro delle scorse cinque giornate di campionato perché la partita contro il Bologna è stata rinviata. In questi ultimi incontri ha conquistato 10 punti, ha vinto contro il Torino, ha vinto contro la Lazio, ha vinto contro il Venezia e ha pareggiato contro l'Atalanta. Le statistiche sono dalla sua, è prima in campionato con 53 punti, ha il miglior rendimento interno con 29 punti, il miglior attacco con 53 gol fatti, una media di 2,41 a partita e la seconda difesa del campionato con 17 reti subite. E insieme alla Lazio è la squadra che ha affettuato più assist, 34, quella che ha affettuato più cross utili, 171, e quella che ha realizzato più gol di testa, 14. Finora il miglior marcatore stagionale della Nazuria è Dzeko che ha segnato 12 reti. Leggiamo le probabili formazioni e poi andiamo a commentare quanto è stato scritto dall'ottima analisi del nostro collega Andrea Spoto e poi diamo qualche info in più, qualche soluzione, ma analizziamo qualche soluzione tattica che Mr. Pioli adotterà questo pomeriggio. Andanovic in porta, Skriniar, De Vrij Bastoni, Dumifres, Barella, Brozovic, Aranoglu, Perisic, Largo a sinistra, Lautaro, Dzeko. Quindi la miglior formazione possibile per l'Inter. Il Milan che giocherà con Magna, Calabria, Calulu, Romagnoli, Teo Hernandez, Tonali, Ben Nasser, Saleme Kerr, Che sì, trequartista, Raffaele Aou e Giroud. Partiamo dall'analisi del nostro collega dicendo è prima in campionato 53 punti, ha il miglior rendimento interno con 29 punti. Il miglior attacco con 53 reti, quindi ha una media di 2,41 partita. È una partita in cui dovremmo essere molto attenti, molto abili in fase difensiva. È molto difficile limitare l'Inter, è molto difficile in qualche modo non concedere occasioni alla squadra di Simone Inzaghi. E loro sono molto bravi a non subire, perché hanno subito solo 17 reti in 24 gare, quindi non tutte le partite, meno di un gol a partita. È la squadra che ha affettuato più assist, giocano in maniera molto dinamica, giocano molto bene sugli esterni, ma sanno anche colpire dal lato centrale. Ha fatto, la squadra che ha fatto più cross utili, 171. Questo testimonia il gioco di Simone Inzaghi. Da destra a sinistra per poi andare a verticalizzare in centro, per poi andare a mettere la palla pericolosa lì, lì in attacco, lì nell'aria, dove c'è Dzeko, dove c'è Lautaro, dove ci sono gli inserimenti dei centrocampisti. E poi è la squadra più fisica, che ha colpito di più, che ha fatto più reti, ben 14 di testa su 53, quindi un ottimo bottino. Quindi attenzione alla testa, attenzione ai cambi di gioco, attenzione ai cross. Attenzione agli inserimenti in mezzo al campo. Il Milan cosa può fare? Il Milan deve saper creare superiorità numerica lì davanti. Giochiamo col 4-2-3-1, quindi potenzialmente in fase offensiva, attacchiamo in 4, quindi con Chessy, con Salemecker, con Leao, con Giroud. Quindi potremmo essere in superiorità numerica. Dobbiamo essere bravi con le accelerazioni dei due esterni, Salemecker e Leao a creare superiorità numerica, perché l'Inter, nella chiave tattica, i gol che ha subito li subisce, perché ci sono stati i cambi repentini di gioco, con la difesa che scala e che la squadra avversaria crea sempre superiorità numerica. Quindi un giocatore talentuoso, veloce, rapido, come Rafa Leao, deve poter colpire in quel modo, deve colpire in quel modo. Deve poter creare subito numerica, creare occasioni per Olivier Giroud. Dobbiamo servire bene Giroud, dobbiamo colpire bene con Chessy, con gli inserimenti, ed essere abili con Ben Nasser e Tonali a recuperare più velocemente i palloni e impostare velocemente il gioco. Solamente così, con queste tre chiavi tattiche, secondo me, possiamo fare male all'Inter. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti del video, scrivete, secondo voi, come il Milan può impensare l'Inter e come sempre, cliccate mi piace. Ogni mi piace oggi è un forza Milan e un abbasso Inter e ovviamente, forza, forza Milan. Ci sentiamo dopo il derby per l'analisi del post-gara.